Il RIS di Messina è un RIS che si è distinto e direi sempre più, negli ultimi anni, negli ultimi mesi ha raggiunto livelli di eccellenza veramente alti. È competente, come sapete, su due sole regioni, ma su regioni di particolare importanza per la lotta alla criminalità organizzata e che quindi richiedono livelli altissimi in ogni branca dell'investigazione. Ai crimini più efferati, ma anche ai crimini che più direttamente colpiscono tante persone, mi riferisco ai crimini predatori, a volte non efferati e però sicuramente difficili da accettare per tante persone e che possono colpire un maggior numero di persone. Ecco, qui dentro si lavora a livelli scientifici veramente alti. È stato possibile poco fa vedere alcuni dei laboratori e poter apprezzare, magari soltanto per la spiegazione sintetica che è stata data, alcuni degli apparecchi, degli apparati, dei sistemi che vengono utilizzati. Sono sicuramente di altissimo profilo, al più alto livello internazionale. Ha citato il comandante del RIS, procedure e sistemi assolutamente omogenei rispetto a quelli dei paesi nei quali l'indagine scientifica, così come in Italia, è a più alti livelli.